Con Fartigianato edilizia Sardegna, attraverso le parole del suo presidente Giacomo Meloni esprime preoccupazione sulle recenti normative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare critica l'introduzione di una patente a crediti per i cantieri, giudicandola un aggravio burocratico e di scarsa efficacia che rischia di essere un ulteriore owner, soprattutto per le piccole imprese. Meloni enfatizza l'importanza della sicurezza ma sostiene che non dovrebbe dipendere da nuovi decreti o dall'accumulo di procedure amministrative, bensì dovrebbe essere fondata su principi di chiarezza normativa, prevenzione degli incidenti, formazione continua e un'efficace collaborazione tra le diverse associazioni datoriari e gli organismi preposti alla sicurezza sul lavoro. In questo contesto, con Fartigianato edilizia Sardegna, vede l'associazionismo d'impresa come un veicolo cruciale per diffondere una cultura della legalità, che parte dall'educazione nelle famiglie e nelle scuole per estendersi poi all'ambiente lavorativo. Un approccio che per il presidente non solo promuove una gestione efficace e responsabile della sicurezza sul lavoro, ma contribuisce anche a creare un tessuto imprenditoriale più solido e consapevole.